Ah, vediamo un po' nella lista delle idee cosa potrei registrare oggi, vediamo un attimino E quindi eccoci qua, andiamo a fare una bella reaction a quelli che sono i primi, primissimi video di Tube Come ho già fatto per il mio stesso canale, abbiamo infatti già visto un video in cui sono andato a rivedere tutti i miei primissimi video Con profonda vergogna, lo ammetto, questo è il canale del carissimo Tube, 663.000 iscritti, occhio Ve lo dico da adesso, se lasciate ora un mi piace, vedrete qua sul mio canale la reaction anche ai primi video di Bloodsgan68 Io vado nelle informazioni del canale di Mirko, ogni giorno un nuovo video e il canale, attenzione, l'ho aperto l'11 maggio 2013 Quest'anno il caro Tube fa ben 10 anni su YouTube Ma soprattutto la frase che mi piace è, ricorda chi smette di giocare in vecchia, condivido pienamente Io continuo a giocare, però i capelli bianchi si stanno a fare comunque, però quello è ultra istinto, dai Questi sono i suoi caricamenti recenti e come potete vedere in alcuni di essi sono ben presente Ma dovete sapere che il primo video che ho fatto con Mirko è stato credo 7 anni fa circa Io potrei andare a vedere il suo primo video, ma dovrei scrollare un botto, ma veramente un botto Perché tutti e tre ragazzi abbiamo fatto centinaia e centinaia di video, molti dei quali anche insieme, vedete Dopo circa un quarto d'ora sono finalmente arrivato in fondo alla lista dei video di Mirko E sono questi qua, addirittura il suo primo video, che non so se poi era veramente il primo video che ha registrato e pubblicato Oppure se il primo l'ha cancellato, però qua vedo quello video di Ghosts chiarimenti E ci siamo, ma attenzione parte subito un botto di musica credo col copyright, Mirko non la posso far sentire, scusami Buongiorno ragazzi, con questo video voglio un attimo chiarire le idee a tutti coloro che hanno preordinato Call of Duty Ghosts E non sa cosa li aspetta, ma anche chi lo vorrebbe comprare, ma come chi lo ha preordinato non sa cosa li aspetta Ma quindi occhio, in primis un Mirko tristissimo, o forse molto serio e non sono assolutamente abituato Quindi già l'impatto è molto strano, ma quindi questo non è un video di intrattenimento ragazzi Questo mi sembra un video di informazione videoludica, andiamo avanti Partiamo con il dire che oltre le già collaudate modalità di Call of Duty, se ne andranno ad aggiungere delle nuove Come Search Rescue Cioè quindi lui in questo video va a spiegare le nuove modalità che poi all'epoca, ben nove anni fa, introduceva Call of Duty Ghosts Ma è assurdo Vi avviso che se lo fate morire, perché ho visto un video dove il cane rischiava di cadere, c'è il video qui dove il cane rischiava di cadere dall'aereo Attenzione perché sta partendo malissimo, eh Dall'elicottero, allora, se il cane muore, io vi avviso che vi riempio la mail di insulti e di parolacce No, no, Mirko, no Ma Mirko, ma no, ma scusami Condivido pienamente il tuo nobilissimo intento Ma di mandare una mail con tutte queste cattiverie? No Però, però, attenzione Diciamo, era partito benissimo Con un intento veramente onorevole Ma poco la mail con le cattiverie? No Avete deciso di inserire un cane? Ecco, cercate di rispettare l'animale Però, ragazzi, in questo video, cioè, è bello serio Mi sembra pure abbastanza professionale Poi nello sfondo non tantissimo Però, all'inizio, ragazzi, tutti dovevamo lavorare sullo sfondo e non solo Però, anche, ci sono delle massime, proprio degli insegnamenti Qua tocca assolutamente lasciare, non so se lo vedete, un mi piace E poi, non so, che grande il nostro tube E qua tocca assolutamente scriverglielo Perché c'è ben poco da fare e ben poco da dire I miei complimenti a lui Questo, invece, è il secondo video Dove sempre un po' di canzone da B-Step In questo video viene... Ma perché è diminuito la qualità? Scusami, Mirko Cioè, nel primo video aveva una qualità maggiore Qua non è nemmeno a fuoco Ma perché scusami? Però le cuffie compatibili al lancio di PlayStation... Ma poi, un altro video molto tecnico Lui sta spiegando quali saranno le cuffie compatibili con PS4 al lancio Perché forse all'epoca, cioè, voglio, PS4 non era nemmeno ancora uscita PS4 e le rispettive funzioni non disponibili Attenzione, però Queste funzioni non saranno disponibili al Day One con l'aggiornamento 1.50 Cioè, quindi lui, vedete, proprio a livello tecnico andava a spiegare tutto Anche gli accessori, l'hardware... Ma veramente, resto stupito Non che colpito, ma in maniera positiva Questo è il primo video Credo, il primo video gameplay sul canale Battlefield 4, l'uragano Tuberanza, su Shanghai Bentornati su Tuberanza, Cagnacci Allora, come... Ma perché Cagnacci? Ma come Cagnacci? Che collegamento ha col tuo canale? Ma no... Eh, vabbè, all'epoca, ragazzi, le registrazioni dei gameplay erano veramente pessime Lo stesso era pure per me Perché, purtroppo, le registrazioni erano, devi vedere se erano a 720p E non erano assolutamente a 60fps Non è mai capitato quei periodi in cui fate una cosa giusto per farla Ecco, a me mi sta succedendo per la Playstation, appunto Io gioco, ma, sinceramente, la voglia è pari a zero Ma perché? Ma allora è confermato quello che avevo già intravisto, già notato dal primo video Perché dopo sette anni, almeno Mirko, un attimino, dal tono di voce me ne rendo conto È triste Ha detto che deve giocare tanto per... che gioca tanto per giocare Ma perché, Mirko, parlaci di questo periodo in cui non avevi voglia di videogiocare Che poi capita? È capitato anche a me un paio di volte, ci sta Però ho un Mirko triste Non faccio perché? Poi ha iniziato a fare video con me, a fare video con Blazzi Ed è cambiato ed ora si diverte, no? Ma noi però non vogliamo vedere solo i primi video Voglio vedere pure i video più popolari Voglio vedere i video che hanno più visualizzazioni Qua addirittura abbiamo, trovo quattro brawler in un video Io mai non mi aspettavo che con un video di Brawl Stars riuscisse a fare una roba così, vediamo Bentornati, fratelli di Tuber Eh vabbè ragazzi, qua era già bello caldo, bello carico Guardate, però ho preso benissimo Molto sbrilluccicoso, pare un'apparizione divina, però ci sta Qua si era appena svegliato, secondo me, si vedeva dagli occhi Black Shark, ma secondo me ragazzi Questa era tipo una sponsorizzazione per il cellulare, vediamo Non ci credo, non ci credo, l'ho trovata boys Ma non è contento, è contentissimo cavolo Però credo di sì ragazzi, il titolo è proprio Black Shark Quindi credo che vada a sponsorizzare il telefono Contentissimo per lui, perché un video con una sponsorizzazione è andato bene Le sponsorizzazioni ragazzi, quando sono corrette e belline Come anche questa qui col cellulare, dove ha sponsorizzato un cellulare Che lui stesso ha utilizzato per un botto di tempo E mi diceva, il gioco va bello fluido Quindi proprio era contento di questa cosa So contento perché il video è andato una bomba Questo video mi ha sempre incuriosito e mi è uscito un botto Di volta nei consigliati, ma veramente un botto Addio YouTube, hai fatto arrabbiare il mio cane L'ho visto all'uscita però No ma ragazzi, ma vi rendete conto della bellezza Di questo cane, bellissimo Ma poi guarda, sta parlando con Mirko, il cane parla con Mirko È chiarissimo ragazzi Eh ma aspetta, dio YouTube perché questo ragazzi era il periodo dell'adpocalipse Se non sbaglio, cioè un periodo in cui i guadagni di tutti i YouTuber Di tutta YouTube, di tutto il mondo Calò a picco perché ci fu una mezza problematica E di conseguenza nessun YouTuber guadagnava nulla Infatti molti YouTuber poi in quel periodo lasciarono perdere e via E quindi Mirko cosa che fece? Sto video con il cane che si era arrabbiato per sta storia Che ero dico sì Guarda, guarda, è bellissimo Però se ci pensi, noi stiamo tranquilli Che spettacolo ragazzi Eh ma noi le parolacce non le diciamo Eh perché se dicevi le parolacce era ancora peggio Perché così ti demonetizzavano ancora di più Giusto? Ma si è ripreso, guarda Però guarda qui, qua Qua stanno Eh vedi dice, guarda qua e lui guarda Ma spettacolo che gli parla Eh però se dici le parolacce poi non possiamo più Che bello ragazzi, bellissimo sto video Ci sono poi dei video con Eze, Monet e Knoid Che colgo l'occasione per salutare No Trovo 13 nuovissime UR Questo qua ragazzi è un capsule opening E gli ha fatto un milione di visualizzazioni Addirittura un bel video di Fortnite Con 700.000 visualizzazioni E poi Google 3 stinti o ti odio 700.000 views Questo credo che sia il suo capsule opening Con tutti e tre Che gli ha fatto più visualizzazioni in assoluto Col guanto di Thanos Eh ma ci sono un sacco di bei video Guardate qua quanti video Ha fatto nel corso del tempo Pure con Con Fede e Lars Ecco Questi sono i video Che a Mirko sono andati sempre Inspiegabilmente Benissimo Ma Attenzione è un complimento Ad esempio Skylanders Il primo video gli ha fatto 500.000 views Mirko Su questi video È incredibile Cioè riesce A realizzare dei contenuti Su giochi di questo tipo Che normalmente A qualsiasi altro canale Andrebbero Oppure Male E invece sul suo canale Bam Impennano Mi accusano di usare i trucchi Vergogna Voglio vedere questa cosa Aspetta qua ci sono delle accuse serie Bento E vediamoci sto video di Mario Kart In cui io e Gianfranco Lo accusiamo di usare i trucchi Vediamo un attimo questa cosa Mario Kart 8 Chi temo No Maro Ma che stavo dicendo qua due anni fa No No Oh Giuseppe No È una burla È una burla No Per pennello di camera del passato Ma no Ma Gianfranco dove era Gianfranco Ancora Gianfranco non c'è Ma Gianfranco Che faceva questi scherzi È concentratissimo Sentilo Gianfran Sì sì Parto Gianfran ma non c'è Gianfran ma che fa Inizio un video così per un minuto non c'è Vabbè non fai niente Ci devo provare lo stesso Alexa Luce rossa da combattimento Ma è mattissimo Ma è ammattito completamente Ma forse prima era peggio di ora Non lo so ragazzi Si sarà ammorbidito Gianfran ma qua c'è qualcosa che non quadra Non è possibile che lui Ecco qua che inizio a dubitare seriamente della situazione Secondi di ritardo Al secondo giro arriva primo Ma infatti lui cosa che ha fatto è partito dopo 15 secondi E poi sul finale è diventato primo Bro perché Perché forse sono un drago La motivazione qual è perché lui è un drago E questo invece è un video Ragazzi che Mirko aveva fatto 5 anni fa 400.000 views addirittura Questo è un video che all'epoca ho fatto anche io col visore E il visore me lo prestò proprio tube Dovete sapere infatti che 5 anni fa lui ha registrato sto video Disse no vabbè fighissimo voglio provarlo Voglio fare anche io un video del genere E lui senza farsi alcun tipo di problema Di gelosia Di come si dice dalle mie parti Di cazzimma Non zero Non ne aveva zero Mi disse Prenditi il visore Ci fai il video Te lo porti a casa E poi me lo rispedisci direttamente indietro a casa mia Quando ti sei fatto il video Magari se fosse stato qualcun altro Mi avrebbe detto No Non posso prestartelo Io mi faccio il video E me lo tengo solo sul mio canale E invece no Lui me lo prestò Pensando che mi potesse appunto far piacere Fare un video molto simile al suo E non si creò alcun problema al riguardo Quindi è una cosa che questa non mi sono mai assolutamente dimenticato Scrivetemi nei commenti ragazzi Qual è stato il primissimo video che avete visto In cui ero presente No Mirko Ero presente sia io Ma questi gesti In cui ero presente sia io che tu Sono curiosissimo di vedere il primo video insieme Che avete visto Quindi ragazzoli Con questo Final Flash che sta facendo Vegeta Io vi saluto Alla prossima Ciao